Eccole, finalmente sono tornate direttamente dall'internazionale di tennis di Roma le nostre Peugeot 508 Station Wagon Ambassador. Le più amate, le più ambite e le più richieste. Peugeot 508 Station Wagon piace per la sua eleganza e per il suo design di carattere. Piace perché offre una tecnologia all'avanguardia. La qualità di materiali utilizzati e degli colpaggiamenti e la cura profusa per le finiture ricollegano immediatamente l'interno di nuovo Peugeot 508 Station Wagon ad un universo alto di gamma, moderno e raffinato. Tutte le nostre vetture sono certificate rate premium e sottoposte a controllo dei 200 punti. I nostri responsabili service e i nostri automotive expert sono preparati per consegnarvi le vetture igienizzate e tali andate praticamente pari al nuovo. Peugeot 508 è perfetta per tutti, pensata sia per le famiglie ma allo stesso tempo, ideale anche per i businessmen. Che stai aspettando? Lasciati conquistare dal suo look moderno e deciso, siamo allarratti non solo auto, raggiungerci è semplicissimo, ci trova un barzago nel cuore della Brianza a solo 30 km a nord di Milano.